Furto al supermercato Sole 365 a Battipaglia. Due ladri sono stati sorpresi dai dipendenti del supermercato in piazza salvo d'acquisto sabato sera, mentre rubavano alimenti. La compagnia dei carabinieri di Battipaglia, agli ordini del capitano Donato Recchia, ha fermato mamma e figlio residenti a Cava dei Tirreni all'uscita del negozio, denunciando le piede libero per furto. Secondo gli investigatori, il furto, che ammonta ad un valore di circa 70 euro, non sarebbe avvenuto per necessità, dato che il giovane aveva già altri precedenti di questo tipo. La refurtiva è stata completamente recuperata dai carabinieri e consegnata al responsabile del supermercato. Non escluso che gli alimenti rubati dai ladri sarebbero poi stati rivenduti a qualche commerciante compiacente, ma i carabinieri hanno recuperato giusto in tempo la refurtiva. Nei giorni scorsi gli uomini dell'arma della compagnia di Battipaglia hanno arrestato un ladro che aveva messo a segno un furto di materiale elettronico in un negozio a Bellizzi e ha tentato poi un furto in un supermercato. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per evitare altre azioni criminose del genere.